no bella a tutti ragazzi e benvenuti su un nuovissimo video da andrew brothers io sono già qualsiasi capo qua con me sei che lo scrive siamo nel capitolo numero 11 di ma che fai? eh della mappa chaoscraft che lo potete scaricare l'abbia da patatine l'abbia da patatine l'abbia da patatine ma è non guardare voi da sotto allora capito? mi hanno guardato tutti e che cazzo cazzi tuoi capitolo 11 ragazzi intanto leggo il capitolo 11 capitolo 11 obbligatorie trova e distruggi il generatore del caos ok andiamocene mi dai una spada hai una spada per me io sto combattendo con i enderman hai una spada per me ne hai uno dietro ok faccio allora portale dell'end parkour dell'end facciamo il parkour jaguar vieni qui torna indietro ho due end che mi che mi seguono pace chi se frega come che se frega sto morendo aiuto no scusami scusami te perchè devo scegliere da qua no perchè ci sono ci sono tre end oh past tardi che ci fanno ok appena questi appena questi figli di puttana si spostano un è caduto giù cade giù anche l'altro aspetta c'è cadere giù anche l'altro ho preso tutto ce l'ho io già guarda la tua roba poca veramente poca ma ce l'ho no no niente andiamoci come non hai niente armatura di diamante tranquillo ho solo una spada donna me ma ti vendo tranquillo ho solo questo dammi la natura dammi la natura dammi la natura no tipi fottiti pal ora non abbiamo più niente ti sta nel culo fammi di più no fammi di più no ti faccio tp o nel lento salendo ti faccio tp o nel lento veloce 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 che cazzo ci faccio qua perchè sta morendo perchè sta morendo sono in fiamme no non sei in fiamme ok veloce fai tp o appena entro eh ci sei con tp o si vai tp o aia ok perfetto tranquillo ero in parte a te vai fratellino una sculaccia ma che cazzo wow 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 livello 2 ho un cuore come livello 2 ok troppo tardi mi teletrasporta mi veloce aspetta ho fatto lo spawn qua vai ok basta spawn eh che cazzo sono morto nello spawn anch'io scusa basta ti odio sto iniziando sto iniziando a odiarti stai lagando tutto ma tua madre lagga allora faccio ecco 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 perché ti volevo dare una mano mi fai tp o adesso te mi fai tp o e sto salendo le scale aspetta no veloce veloce fai tp o vedo tp o oh bello eh mi sa che corri devi correre e saltare correre e saltare che palle che palle corri anche qua ti supero ti supero correndo guarda no no ah la testa ah la testa sto male livello 3 ma di testa sto scherzando livello 3 fai lo spawn qua fai set spawn fai set spawn tu ti dici ti trascinerò con me fai set spawn settato lo spawn si ok perfetto scusa scusa non ho fatto apposta scusa scusa non ho fatto apposta non ho fatto apposta non sto facendo apposta perdonami ah super turbo che cazzo oh ottimo tieni metà tieni c'era solo questo e anche questo jaguarts guardami 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 prima nooo ecco alla modica ok jaguarts parla però esprimiti esprimi la tua bella ah cazzo fai qua per cui ho fatto tp boh torniamo indietro abbiamo finito livello 1 ma abbiamo tornato indietro si era inutilissima la web ok non guardare l'enderman no se no ti lamenti ancora e non voglio sentire ti lamentare no ah kill ragazzi andiamo 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 ma ti pare male è maleducazione non seguire la strada del tracciato e superarmi leggi nota 17 leggi nota 17 aspettami leggi nota 17 nota 17 ultima nota ragazzi il generatore del caos è qui da qualche parte penso che si trovi in fondo a questo percorso dobbiamo distruggerlo e aspettami però cazzo are you fucking chiedemi che cazzo è il letto esplode nel mondo di niente perchè vabbè nel nether e nel n quindi è una tp una tm davvero ah figo corri 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 sei dietro di me? no lego boss ragazzo è tutto distruttori no non era distrutto era tutto bedrock ah ok comunque che cazzo ehhh ehhh ah titolo lecce dietro per favore il maestro geni io da mi fa una pipa la giusta sembra eseczio wow cose questo se quella cosa ti da cosa è amici più amici più e amici più perché io perché non funziona questo portale fammiti più il primo non funziona il portale fammiti più il primo ok spostati spostati fammi fammi usufruire del portale non funziona e fammelo usufruire ma dove sei? ah ok ok gamme mode spacchiamo questo portale dov'è l'altro? obsidiana allora lo faremo noi ragazzi già allora accendilo ok perchè non va? eh un attimo idiota perchè non va? vai eh l'hai fatto male no è giusto l'hai fatto male cosa c'è di male in sto portale? è giusto? l'hai fatto male guarda che è giusto eh arriva lui non è così grande è giusto come l'ho fatto io scommetti che non funziona il portale dell'end quindi? ho un'idea ragazzi allora ritorniamo subito vediamo se riusciamo a sistemare la cosa con board edit con mc edit e niente se ce la facciamo ce la facciamo se no faremo un piccolo epigolo epilogo di nuovo in una parte casual del mondo a dopo ragazzi ciao ciao provo a vedere se riesce a sistemare ok ragazzi siamo tornati in appunto dati aspetta aspetta ok siamo tornati ragazzi e ho dovuto mettere una mia schematic nel mondo di end perchè il portale di end cioè il portale del nether non funziona nel quello di end quindi aspettatemi aspettatemi ti sto aspettando questo era un fail eh te le trasportami game mode ok tp all dove sei dov'è oh che cazzo eh ma cosa vuoi risolvere con questo aspetto guarda atta vai qua prova dimmi dove vai è finito il gioco ma sei un idiota ok dove sono ok aspetta fai tipi da me ok ragazzi aspettate ancora un paio di fail io sto andando l'end non funziona totalmente ok ragazzi progetto fail neanche guardate neanche il neanche il nether del land funziona ok perchè è disazionato ragazzi ritorniamo di nuovo ok ciao ragazzi siamo ritornati allora morale della favola allora abbiamo visto come finisce ci siamo un attimo andati a guardare dei video su come finisce il gioco e niente allora il gioco finisce praticamente non riusciamo ad andare lì cioè non riusciamo ad arrivare nel punto della fine ma da quello che ho visto praticamente bisogna si va nel mondo normale e da lì dice complimenti per aver finito la mappa posta il tuo punteggio nel forum basta finisce tutto lì dunque vabbè la mappa è finita io direi da 0 a 10 gli darei un bel 8 e mezzo te jaguarts 9 9 si anch'io cioè è abbastanza carina a parte la fine che vabbè dovrebbero sistemarla un po' la fine è anche un po' di merda ma vabbè la mappa direi che è finita cioè siamo arrivati all'episodio 17 questo è l'ultimo e vabbè si può concludere da gli adventure brothers è tutto ciao ciao ragazzi ciao 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 ciao